Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 del digitale terrestre siamo qui in diretta alle 7.30 in replica alle 9.10 alle 13.30 per leggere i giornali tra pochissimo adesso vediamo il santo del giorno subito in apertura, oggi la chiesa festeggia Santa Eufrasia di Nicodemia il sole è sorto alle 6.24, tramenterà alle 18.11, vediamo il tempo, questa è l'immagine di Fano alle 7.30 temperatura fredda, 2 gradi questa mattina alle 7.30, avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento nei valori massimi per domani sabato invece ancora cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento nei minimi domenica peggiore il tempo, ecco la perturbazione che porterà deboli diffuse precipitazioni nella seconda parte della giornata, quindi nel pomeriggio le temperature saranno in lieve aumento mentre per la giornata di lunedì 16 sarà ancora interessata dal fronte caldo arrivato domenica 15 che porterà deboli precipitazioni, poi da martedì avremo un generale miglioramento con pioggia, con precipitazioni che saranno praticamente assenti per il resto della settimana Allora andiamo sul messaggero, cominciamo dal messaggero, la pagina di Pesaro e Urbino La politica, Paolini e Carloni, due fanesi politici, uno della Lega e l'altro del nuovo centrodestra Scintille via Facebook, il leghista attacca, la campagna di Mirko Carloni è senza simbolo la replica di Carloni, area popolare deve ancora scegliere A centro pagina, multiservizi, la cessione delle quote crea tensioni anche nel centrodestra Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro, ha detto che con i soldi di questa alienazione del 2,5% di azioni di marche multiservizi vuole sistemare, riqualificare Viale Trieste Adesso si ritrova però SEL, contraria a questa privatizzazione dei servizi Per l'IDV una rendita perduta frettolosamente A Urbino invece la notizia di quest'uomo che vuole fotografare il questuante molesto per segnalarlo ma viene aggredito, è successo nel parcheggio dell'ospedale di Urbino dove un uomo stanco di essere avvicinato dall'insistente parcheggiatore abusivo per l'offerta di rito ha deciso di fotografarlo per poi rendere pubblica la molestia ma viene aggredito e questo parcheggiatore abusivo ha tentato di aggredirlo con violenza e di strappargli il telefonino A Fossombrone invece lo ringrazia del passaggio derubandolo della collana con il crocefisso in oro L'abbraccio di Giuda, scrive il messaggero questa mattina è stata una 35enne romena, dai modi gentili e dall'aspetto avvenente a gettare le braccia al collo ad un 61enne per ringraziarlo di un passaggio e contemporaneamente però per sfilargli la collana d'oro al collo i militari dell'arma di Fossombrone, i carabinieri hanno denunciato la donna A Marotta invece sarà battaglia in Consiglio Comunale sul progetto del sottopasso oggi la seduta convocata in via straordinaria a Mondolfo appuntamento alle ore 18 nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale chiamata al voto sull'ordine del giorno presentato dalla minoranza sulle modifiche al progetto di opere compensativa alla chiusura del passaggio a livello redatto da Rete Ferroviaria Italiana Allora l'altra pagina di Fano invece del messaggero punta sul, vabbè, a centro pagina sull'Interquartieri Interquartieri Massimo Seri cerca la chiave a Roma dove è andato in trasferta per aggirare o tentare perlomeno di aggirare il patto di stabilità, secondo l'assessore Marco Paolini se fossero resi disponibili subito i soldi il secondo tratto della strada sarebbe ultimabile entro la fine dell'anno Poi invece più in alto, sempre sul messaggero di Fano si parla del processo al primario Gianfranco Franchi niente processo per l'ex primario di pediatria del Santa Croce ieri per il medico finito nei guai a settembre del 2013 per aver intescato tra l'altro parcelle per visite in Tramenia senza versare la dovuta percentuale all'azienda ospedaliera era il giorno dell'udienza preliminare ma il giudice Lorena Mussoni non ha potuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM Sante Bascucci a causa di un cavillo qual è il cavillo? bisogna comprare il giornale e poi leggere perché poi è articolato paga la bolletta in ritardo e subito viene sanzionato e per questo un disoccupato fanese di 45 anni segnalerà alla Prefettura e al Ministero della Giustizia il comportamento un po' così così secondo lui dell'amministrazione pubblica che si è comportata, dice, come Equitalia ha ritardato infatti quest'uomo il pagamento delle bollette sui rifiuti questione di pochi giorni, non di mesi e gli hanno appioppato una mora di pochi centesimi più 37 euro di sanzione poi andiamo sull'altra pagina del messaggero c'è la buona notizia data dalla Confindustria che c'è una ripresina la chiama così dal punto di vista dell'economia la ripresina c'è dopo oltre 7 anni di stagnazione infatti gli ultimi dati confermano lo sblocco del mercato interno con un incremento dei consumi la crisi non è ancora alle spalle dice Confindustria ma settori chiave come quello del mobile stanno tornando a crescere dal comparto manifatturiero giungono segnali positivi e anche l'estero mostra un rinnovato vigore dalla prima pagina invece del messaggero torna la banda delle bici high tech e colpisce inditta un furto che è avvenuto nella notte a Monte Labbate scatta subito l'allarme ma i ladri fanno in tempo a fuggire a Urbino invece il capolavoro atteso il 25 aprile Sgarbi saluta la muta restaurata aperta ieri da una conferenza stampa con Vittorio Sgarbi le iniziative che precedono il ritorno della muta restaurata a Urbino ancora dai quotidiani andiamo sul resto del carino la pagina di Fano io senza lavoro vittima dei tirocini scaricato ogni volta e costretto a vivere con 300 euro al mese racconta la sua storia Roberto Ricci disoccupato a causa della legge Fornero l'azienda non assume va avanti a tirocinanti gratis pagati con i soldi pubblici la denuncia con questo tipo di contratti per 12 mesi non possiamo entrare in un altro progetto e poi un'altra notizia di cronaca qualcuno ieri si è divertito a dar fuoco ai rifiuti rami, tronchi, plastiche e quant'altro che le mareggiate ma al tempo dei giorni scorsi hanno depositato in gran quantità la foce del Metauro ebbene tre mezzi dei pompieri ieri hanno impiegato due ore per spegnere un incendio che evidentemente è stato appiccato alla foce del Metauro poi guardate questo yacht questo yacht chi si è imbattuto ieri mattina alle 8 e mezzo è stato in coda per una mezz'oretta circa sulla statale 16 Adriatica perché questo yacht che stava appunto passando da Fano Sud verso il porto ha bloccato la statale 16 causando bloccando la circolazione e causando rallentamenti e ritardi anche per quei lavoratori che a quell'ora dovevano andare sul posto di lavoro poi Fano ha bisogno della Notte Rosa il Presidente del Consiglio Comunale Minardi ad Aguzzi è un evento conosciuto in tutta Europa e che porta turisti l'ex sindaco non ha mai messo la nostra città al centro dei progetti adesso bisognerà appunto vedere quali sono i costi per ospitare questa Notte Rosa e quali potrebbero essere i benefici anche perché comunque per averla bisognerà tirar fuori dei soldi però vedremo il sindaco se richiede il completamento dell'interquartiere l'abbiamo visto anche prima poco fa sul messaggero viaggia a Roma intanto Carloni annuncia finanziamenti poi sempre dal resto del Carlino scopre i ladri in casa ma ritorno a dormire compro la pistola la prossima volta sparo Franco Vitali si accorge del furto e resta accanto alla moglie ho sentito i passi ma non volevo spaventare la mia consorte uomini di altri tempi San Costanzo il cuoco artista Ramoscelli espone le sue opere e poi sempre dal resto del Carlino centro residenziale anziani il caso finisce in consiglio Pugno in faccia invece siamo sulla cronaca di Urbino Pugno in faccia dalla Vucumpra lo scontro dopo una discussione nel parcheggio dell'ospedale finisce male la giornata di un 45enne che respingeva un senegalese l'uomo voleva fotografare l'aggressore per denunciarlo sono intervenuti i carabinieri cellule staminali ecco il punto con Unistema l'università oggi metta confronto gli esperti va a denunciare il furto siamo a Fossombrone e riconosce la ladra sorpresa per un 61enne che si ritrova la donna di fronte dai carabinieri Durantina partorisce in ambulanza corsa verso l'ospedale di Urbino è nata alle 3 e 40 circa l'altra notte sull'ambulanza del 118 che da Urbania la portava nell'ultimo tratto molto velocemente all'ospedale di Urbino sta bene lei sta bene anche la mamma è la figlia di una donna di 26 anni di origine marocchina ma residente con la famiglia da anni ad Urbania ancora sui quotidiani apriamo adesso il resto del Carlino in evidenza a centropagina sulla pagina di Pesaro pronta la variante per lo stabile Xan Italia il nuovo edificio da 5.000 metri quadrati potrà essere elevato a 9 metri per la gestione per la gestione scusate verticale del magazzino l'atto amministrativo arriva alla commissione urbanistica signoretti che il titolare prevede altre assunzioni poi dalla pagina di Fano un parcheggio questa è una notizia curiosa interessante tutta da leggere un parcheggio al posto dell'Agip l'avrete sicuramente riconosciuto stiamo parlando del parcheggio che si trova in via Gramsci dove si fa il carnevale di Fano tanto per intenderci vedete il grande distributore all'incrocio tra le vie Monte Grappe e Gramsci dicevo la concessione non sarà rinnovata a fine anno primo passo per la pedonalizzazione di via Cavour aperta alla circolazione la parte nord di Via Nolfi col controllo elettronico del limite dei 30 km orari poi al porto mercato del pesce della Coldiretti tra l'altro ho letto proprio poco fa prima di andare in onda che su un'altra pagina quella di Senigallia più avanti anche al porto di Senigallia credo che ci sia un'iniziativa identica a quella di Fano dove come chi ha visto il telegiornale ieri avrà capito che al porto si è sempre venduto il pesce in maniera un po' così così adesso invece mettendo tutte le cose a posto in maniera regolare si può vendere e si può fare rispettando le regole il comune esattore bussa anche tagli antiquari aumentate le tariffe mentre tarda a partire il rilancio del mercato mensile che avrebbe bisogno di nuovi spazi coperti andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico piovono le uova di Pasqua 10.000 quelle che saranno lanciate domenica a Lucrezia sperando sempre nel bel tempo la cena del cavolo tipicità fanese appuntamento a tavola per iniziativa dell'associazione Sara Bracci e poi appalto vinto con il ribasso dell'80% i lavori all'ex chiesa di San Pietro in valle alla ditta fanese gamma ok ci fermiamo qua non c'è altro o meglio se volete c'è l'altra pagina facciamo ancora in tempo sì un minuto dalla pagina di Fano e Valle del Cesano del Corriere Adriatico vedete sempre dopo il referendum su Marotta Unita dopo un anno i problemi restano il comitato Fano Unita lamenta i ritardi e le difficoltà del processo di unificazione e poi sotto Sagra Polentara piatto straordinario tra due giorni la manifestazione che supera la soglia delle 200 edizioni un altro appuntamento molto importante per per questa cittadina che ha questo appuntamento che si svolge ormai da più di 200 anni siamo alla 201esima edizione della Sagra Polentara che è la sagra più antica delle Marche ad organizzarla la proloco in collaborazione con il comune di San Costanzo mi fermo qui grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna domani mattina alle 7 e 30 arrivederci di San Costanzo di San Costanzo Grazie.